ramses terzo è considerato da molti studiosi l'ultimo grande faraone d'Egitto grazie a lui l'Egitto riuscì a sopravvivere all'invasione congiunta dei libici e dei popoli del mare il suo regno fu abbastanza prospero e anche se ebbe dei piccoli problemi tra cui il primo sciopero della storia ma la cosa più grave successe verso i suoi 60 anni quando lui era già anziano perché all'interno della sua corte serpeggia il tradimento una cospirazione viene ordita da una delle sue mogli ti che era una delle mogli secondarie che voleva mettere sul trono suo figlio il principe pentaguere la donna fu spinta a tramare contro il proprio re dal desiderio appunto di mettere al posto dell'erede disegnato il futuro ramses quarto suo figlio il complotto venne ordito nell'arem reale situato nel complesso di medine tabu presso tebbe l'odierna luxor e qui si trovavano il tempio funerario dove sarebbe stato destinato il corpo di ramses terzo e gli edifici della corte e dei servitori qui però devo fare un piccolo inciso l'arem dell'antico egitto non è uguale all'arem che tutti conosciamo ovvero l'arem dell'impero ottomano perché nell'antico egitto questo l'arem non è un ruoco di reclusione per le donne destinate al puro piacere sessuale del faraone ma è una vera e propria istituzione sociale ed economica volta a garantire il benessere di tutti i membri della famiglia reale la madre del faraone regnante le mogli del faraone le concubine e tutti i figli sia delle mogli che delle concubine inoltre l'arem è proprietario di terreni bestiame botteghe personale di servizio ha delle gerarchie precise al suo interno degli amministratori che gestiscono i vari affari dell'arem insomma è una vera e propria casta potremmo dire ma ritorniamo alla cosiddetta congiura dell'arem ti per realizzare il suo piano ha bisogno dell'appoggio dentro e fuori l'arem l'insoddisfazione come abbiamo detto per diversi problemi interi alla politica interna dell'egitto serpeggiavano a corte quindi trovo diversi alleati in testa a tutti c'era babba kamen il maggiordomo reale cioè il più alto funzionario del faraone e pairi il tesoriere reale all'interno dell'arem ti poteva contare sull'aiuto del direttore dell'arem panik di otto funzionari oltre a sei mogli che erano altre donne che erano le mogli dei guardiani della porta dell'arem la loro partecipazione a questo a questa congiura era fondamentale perché i guardiani dell'arem dovevano aprire le porte ai congiurati per farli passare al complotto partecipò anche parte dell'esercito nonostante rams esterso come abbiamo detto all'inizio avesse sconfitto i maggiori nemici dell'egitto oltre alle armi congiurati disponevano di una risorsa speciale da utilizzare contro il faraone che anche nel in quella mentalità in quel luogo in quel tempo era fondamentale ovvero la magia dei sacerdoti quindi parte della casta sacerdotale doveva organizzare riti incantesimi a favore dei congiurati e contro la persona del faraone lo scenario scelto dai cospiratori per perpetrare il loro crimine fu il parazzo reale come abbiamo detto di medine tabu vicino agli edifici dell'arem realizzare il piano ti dovette aspettare che il sovrano si trasferisse nel luogo designato il che avvene il giorno 15 del secondo mese del calendario egiziano cioè il secondo mese della stagione scemu che in egiziano significa il calore che andava da marzo fino ai primi di luglio nell'anno 30 del suo regno vale a dire grosso modo al 1155 avanti cristo in quel periodo che nell'antico egitto era il periodo del raccolto a tebbe si celebrava una festa particolare la bella festa della valle durante la quale la stata del dio amon lasciava il tempio di karnak per far visita agli dei ossia i faraoni sepolti sulla sponda ovest del nilo proprio dove si ergeva il palazzo di abu il corteo reale accompagnava la processione del dio e lo stesso faceva il popolo il faraone era debilitato come abbiamo detto era anziano a quell'epoca e soffriva di arteriosclerosi i congiurati confidavano quindi di riuscire a portare al termine il loro piano grazie alla complicità di alcuni membri della guardia reale che aprirono le porte del palazzo i traditori riuscirono a introdursi all'edificio ma il tradimento fu scoperto anche se fu scoperto e i colpevoli vennero catturati questa storia ovvero raccontato la sappiamo da diversi papiri da papiri giudiziali perché una volta catturati si fece il processo a tutti i congiurati vennero puniti 36 38 persone di cui 34 con diverse pene e alcune con la pena di morte però i questi papiri non ci dicono come va a finire la storia nel senso se l'attentato alla persona del faraone è effettivamente avvenuto ci viene raccontato per ferire per segno come vi ho raccontato i nomi dei congiurati il piano che devono attuare il giorno stesso in cui viene fatto l'attentato ma della sorte di Ramses terzo non se ne sa nulla non ci viene detto praticamente nulla solamente nel 2012 grazie a un'attacca eseguita sulla sulla mummia di Ramses terzo si è potuto vedere un taglio sulla sua gola probabilmente inferto da un colpo di spada all'interno di questa ferita c'era un amuleto quindi si è pensato che l'attentato effettivamente riuscì cioè quindi il faraone venne ucciso Ramses terzo perse la vita in questa congiura e Ramses IV il suo successore scoperta appunto la congiura punì tutti i partecipanti dati al principe di Tawere ai sacerdoti e a tutti gli altri anche per oggi abbiamo finito ci rivediamo per altre storie di storie mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate mi piace se vi è piaciuta la puntata e continuate a seguirci grazie a tutti